Prova AN-ART13, la stazione è stata tutta ripulita oggi pomeriggio, è quasi pronta per essere montata nel suo alloggiamento. Vediamo il funzionamento dei famosi motori per la sintonizzazione remota. Ho memorizzato le nostre frequenze botancore, cioè 3740 kHz e 7190. Vediamo come si può effettuare la sintonizzazione automatica. Sul canale sulla memoria 10 ho memorizzato gli 80 metri. Eccolo qua, 3738.95. Adesso andiamo sui 40. Se c'è la spia rossa vuol dire che ci siamo. Eccolo qua. Grazie.